Capitolo nono di Le storie del castello di Trezza di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico, letto da Francesca Roma. Capitolo nono Donna Violante non chiuse occhio in tutta la notte, stava col gomito sul guanciale, fissando uno sguardo intraducibile, immobile, instancabile, su quel marito che dormiva tranquillo accanto a lei, di cui l'alito avvinazzato le sfiorava il viso, e il quale l'avrebbe stritolata sotto il suo pugno di ferro se avesse potuto immaginare quali fantasmi passassero per gli occhi sbarrati di lei. E all'indomani, con le guance accese di febbre e il sorriso convulso, gli disse — Non vi pare che sarebbe tempo di cercare un altro paggio, don Garzia? — Perché? — Corrado non è più un ragazzo, e voi lasciate troppo spessa sola vostra moglie, perché egli possa starle sempre vicino senza dar da ciarlare i vostri nemici. Il barone aggrottò le ciglia e rispose — Amici e nemici mi conoscono abbastanza, perché né la cosa né le ciarle siano possibili. Sugli occhi della donna lampeggiò un sorriso da demone, e poi aggiunse don Garzia — Vi stimo abbastanza per temere che voi, nobile e fiera, possiate scendere sino ad un paggio. E buttandole galantemente le braccia al collo, accostò le sue labbra a quelle di lei. Ella, bianca come una statua, gli rese il bacio con insolita energia. Non di meno, malgrado l'alterigia baronale e la fiducia nella sua possanza, don Garzia era tal vecchio peccatore da non dormir più tranquillo i suoi sogni, una volta che gli era stata messa nell'orecchio una pulce di quella fatta, e andata a trovar Corrado, — Orsù, bel giovane, gli disse, ecco questo borsellino per il viaggio, e queste due righe di ben servito, e vatti a cercar fortuna altrove. Il giovane rimase sbalordito, e non potendo aspettarsi da che parte gli venisse il congedo, temette che qualcosa del terribile segreto fosse trapelata, E tremante non per sé, ma per colei di cui aveva sognato tutta la notte gli occhi lucenti e le brezze convulse. — Almeno, mio signore, e balbettò, piacevi dirmi in grazia perché mi scacciate, perché sei già in età di guadagnarti il pane, dove c'è da menar le mani, invece di stare a grattar la chitarra, ed è tempo di pensare a vestir l'arnese, piuttosto che il farsettino di velluto. — Orbe, messere, lasciatemi al vostro servizio, in mercè, se in nulla vi dispiacqui, e in quell'ufficio che meglio vi tornerà. Il barone si grattò il naso, come se voleva fare tutte le volte che gli veniva voglia di assestare un ceffone. — Via! gli disse, contralpiglio, da non dover tornare due volte sulle cose dette. — Levamiti dai piedi, mascalzone, che dei tuoi servigi non so che farmene, e bada che se la sera di domani ti trova ancora nel castello, non ne uscirai dalla porta. Il povero Paggio aveva perduto la testa, malgrado la gran paura che metteva gli addosso il suo signore, tentò tutti i mezzi per cercare di vedere quella donna che gli avea irradiato di luce la vita in un attimo, e che amava più della vita. Ma la baronessa lo evitava, come avesse voluto fuggire se stessa o le sue memorie. Tutti i progetti e i timori più assurdi si affollarono alla testa delirante del giovane innamorato, e credendo la vita di donna violante minacciata dal barone, decise di far tutto per salvarla. Finalmente, mentre sollevava una tenda sotto la quale ella passava, fiera, calma e impenetrabile, le sussurrò sottovoce. — Se il mio sangue può giovarvi a qualcosa, prendetevelo, madonna! Ella non si volse, non rispose, e passò oltre, e rimase come fulminato. Fine del capitolo nono Di Giovanni Verga